Campo scuola di atletica leggera ed è entrata sta entrando nel vivo la stagione all'aperto e sono stati i protagonisti in questo fine settimana le categorie giovanili con il bello appuntamento che sabato pomeriggio ha visto quasi 200 esordienti quindi stiamo parlando di bambini delle scuole dell'età delle scuole elementari che si sono date appunto appuntamento a San Felice per la primavera degli esordienti quindi la classica gara di apertura che ha visto appunto tantissimi bimbi provenienti da tutte le società della provincia di Modena che hanno visto tanti atleti della fratellanza quindi piccoli bambini prendere parte a queste gare che nella giornata hanno visto appunto le gare di velocità di lancio del Vortex di salto in lungo e di 400 metri che hanno così concluso questo tetratlon di quattro gare per questa categoria ma i primi titoli sono stati assegnati a Carpi dove domenica mattina sono andati in scena i campionati provinciali di prove multiple la fratellanza ha vinto questo titolo e tanti atleti si sono messi in mostra vincendo medaglie importanti come Ludovica di Bitonto che ha trionfato nella categoria cadette e Nicolò Cavicchioli che invece ha vinto le prove multiple cadetti davvero molto bravi i due ragazzi della fratellanza assieme a tanti altri compagni come Martina Berni che ha vinto l'argento Martina Barbieri che invece ha vinto il bronzo mentre tra i maschi Nicola Svanderpau che ha vinto l'argento davvero molto bravo davanti a Gabriele Borellini che ha vinto invece il bronzo tra i più giovani invece quindi categoria ragazzi Samuele Costanzini ha vinto la gara del tetraton B mentre il femminile Giulia Lodi ha vinto questa categoria per loro l'importante appuntamento per i cadetti quindi sempre per le categorie dei più giovani è tra una settimana quindi il prossimo fine settimana domenica a Spezzano per i campionati regionali di Staffetto un appuntamento davvero molto sentito dove saranno quasi 500 gli atleti in gara mentre sono in raduno in Marocco precisamente ai Fran i nostri atleti di vertice come Simone Colombini e Francesca Bertoni nel loro ultimo stagio ultimo raduno in vista della stagione che li vedrà il prossimo mese di maggio e calcare questa pista e portare i colori della fratellanza speriamo ai massimi vertici in vista della finale Scudetto che ricordiamo sarà il 22-23 giugno proprio qui al campo di atletica di Modena Scudetto che ricordiamo sarà il 22-23 giugno proprio qui al campo di atletica di Modena